Un minuto può trasformare la tua vita. Un minuto è una manciata di secondi. Neanche te ne accorgi come l'hai vissuto. In una giornata sono quasi insignificanti. Eppure, molte delle frasi che usi danno un valore infinito a questo minuto. Vorresti un minuto per riposare, un minuto da dedicare a te. Perché vorresti un minuto per pensare, un minuto per spiegarti. Vorresti un minuto di felicità. Un minuto, una manciata di secondi che non riesci mai a possedere. Se vuoi davvero migliorare la tua vita, non devi fare grandi cambiamenti o prendere decisioni epocali. Ma devi lavorare in maniera consistente e continua sul tuo minuto. Se non sai guadagnarti quel minuto così prezioso, come puoi guadagnarti un'intera vita ancora più preziosa? Forse un minuto è solo una manciata di secondi. Ma in un minuto, alla volta, puoi diventare una persona migliore. Perché conosci il valore di ogni istante che puoi vivere. Un minuto, puoi transformare la tua vita. Un minuto, puoi transformare la tua vita. Grazie.